quante volte deve succedere le stesse cose quante volte stesso copione stesso copione ogni partita prima mezz'ora andiamo scrittamente bene 1 a 0 finisce primo tempo secondo tempo l'ultimo quarto torre sempre un gol dobbiamo subirlo e finisce 1 a 1 ecco la fiorentina ecco il ecco l'atalanta non può essere un caso non può essere più un caso adesso non può essere più un caso inutile attaccarsi agli arbitri inutile attaccarsi all'espulsione non fischiato perché questo questo è un difetto dell'idea di quest'anno perché tutte le volte tutte le volte perdiamo punti così allora non è un problema di arbitraggio non è un problema di un problema proprio mentale secondo me cioè io io veramente sono stufo sono stufo sono veramente stufo sono stufo non mi incazzo nemmeno più ormai anzi mi incazzo sì che mi incazzo mi aspetto tre ore a fare il video perché mica dovessi fare il video subito sapete come va a finire adesso conto è andato via san silo senza fare commenti senza niente l'autore espulso lasciamo per te come è andata l'espulsione che ogni volta con l'interno dei cartellini facili ma non voglio attaccarmi su quello assolutamente assolutamente no ancora maran così voleva voleva il gol annullato voleva una spinta che non c'era ma lasciamo perdere questi discorsi ci sono dei discorsi questo poveramente è pazzesco è pazzesco è pazzesco che ci sia sempre il solito copione in queste partite qua non sono incapace di gestire il risultato perché ci sta ci sta non riuscire magari a fare il secondo perché c'è anche la sfiga no pallone che va al filo di palo il rimpallo che non ti riesci il portiere che fa i miracoli poi subisci un gol stupido perché capita sempre il gol stupido da polli il gol di sfiga che quello va a tiraminchia e quello lì devia bastoni va nell'angolino capita sempre purtroppo capita sempre purtroppo capita però però sempre solito copione sempre le stesse cose primo tempo andiamo 1 a 0 secondo tempo 1 pari primo tempo 1 a 0 secondo tempo 1 pari può essere un caso può essere un caso cioè preparate acquisti analisi tutte quelle cose le statistiche dicono questo che perdiamo i punti così abbiamo sei punti persi sei punti persi sei punti persi così fiorentina lecce e e cagliari fiorentina lecce calco con l'altranta non voglio considerare con l'altranta siamo stati graziati quindi abbiamo poco da parlare sull'abitraggio perché con l'altranta ci è andata bene che l'autore non l'hanno espulso anche se poi c'è stata la spinta prima quello che cazzo volete quello che cazzo volete quindi lì possiamo anche considerare che ci è andata tutto bene quello non voglio parlare prove ragazzi non posso sei punti sei punti sei punti buttati ci sta una volta con la distrazione screener non butta giuro da ferentina ti incazzi sei in trasferta ci sta con lecce con lecce anche lì gol da polli gol da polli pure lì che potevi chiuderla ma se in trasferta dici vabbè mamma qua in casa ragazzi in casa in casa 70.000 spettatori di nuovo stanno i miei spettatori e non porti una vittoria e no e lì mi incazzo e lì mi incazzo veramente oggi oggi era da vincere oggi era da vincere ieri diceva tre punti sono d'obbligo e non abbiamo fatti questo è clamoroso questo è clamoroso non puoi vincere sempre ok non puoi vincere sempre ma non puoi neanche pareggiare sempre tre pareggi consecutivi cioè io non lo so io non lo so ma chi dà la colpa a chi dà la colpa è la concentrazione che cala poi gli ultimi cinque minuti fanno i passaggi tic 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 oh stanno pareggiando butta avanti sto pallone è quello che io non mi spiego Sanchez l'ha messo gli ultimi dieci minuti poteva metterlo prima appena pareggiavi Sanchez subito doveva entrare all'istante anzi doveva già scaldarsi prima birra anche che ho metto giocatore young ha fatto pure una buona partita ha giocato meglio young in una partita che lazaro in 20 poi ovviamente non è che può farsi può fare miracoli pure lui ha fatto un buon primo tema abbiamo 60 minuti magari leggiamo il gioco soffriamo come sempre andando ci fai sempre miracoli però arriva un certo punto poi boh fini la nostra inter dura 60 minuti basta l'ultima mezz'ora non si vede più non si vede più non so che dire non so che dire poi sempre il periodo dicembre gennaio capita sempre il periodo storto non ci viene nulla nulla poi per quanto possiamo giocare male per quanto abbiamo una sfiga tremenda una sfiga tremenda incredibile 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 ci va bene una partita per altre tre ci va tutto tutto storto al di là del caldo di concentrazione che comunque guarda caso l'ultima mezz'ora subiamo sempre il gol da stupidi però certe volte porca misera la pala non entra mai in porta mica ma incredibile incredibile quella fil di palo lì ma sensi sensi è partito male poi dopo un attimo ripreso però anche lui non ci ha azzeccato nulla porca valero così così lukaku così così lautaro ha avuto uno schizzo ma lì che cazzo devi fare l'apitraggio è stato così è stato così è un po' un po' dubbio è vero però non ci sono scuri non ci sono scuri poi in casa cocaio devi vincere poi guardare tutte le tue cose come in casa cocaio devi vincere devi vincere assolutamente non è perdonabile non è perdonabile un pareggio del genere ora la lazio ma ci sono passato ufficialmente perché alla fine con chi gioca contro chi gioca domani non lo so ma non voglio neanche sempre mi vincere un nervoso un nervoso un nervoso ora andiamo a mercoledì che cazzo combiniamo con la fiorentina in casa voglio proprio vedere voglio proprio vedere adesso come va a finire se sarà il solito copione e la copietà io ci tengo l'ho capionato vabbè sai già che che deve andare in questo modo anche se scazza perché qui sarà da vincere ma mercoledì mercoledì mica se usciamo se usciamo mercoledì mica io spacco tutto vi giuro spacco tutto spacco tutto se mercoledì non passiamo il turno perché la copietà è la nostra portata tranquillamente quindi non fatemi incazzare e ci vediamo la prossima volta forza inter